Un'indagine trasnazionale, la social dumping, che ha permesso di sgominare un'associazione per delinquere composta da italiani e romeni, dedita al reclutamento e allo sfruttamento di flussi di manodopera provenienti dall'est Europa, impiegati poi nei cantieri della ricostruzione aquilana in centro. Sei gli arresti in totale, due ditti abruzzesi coinvolte più un consorzio e una ditta romena già interessata da accertamenti precedenti. Gli arrestati sono Antonio Del Ricco di Tortoreto, Nicolae Otesco, romeno, Francesco Salvatore di Pettorano sul Gizio, Panfilo di Meo di Sulmona, Giancarlo di Bartolomeo e Massimo di Donato di Teramo. Il GIP Buccella ha disposto per gli ultimi quattro la detenzione per due mesi, poi il braccialetto elettronico e il divieto di esercitare l'attività imprenditoriale. Sfruttamento dei lavoratori che però non è un episodio che va visto isolatamente, è un episodio che va visto nel contesto del progetto, del disegno della procura, di perimetrare la legalità con riguardo alla ricostruzione di L'Aquila. Quindi sono tutti aspetti, come nelle inchieste precedenti, che hanno messo in luce e possibilmente neutralizzato i focolai di legalità nella ricostruzione. Tutto parte da una denuncia della CGL, dal contratto di distacco comunitario che permette di spostare i lavoratori in altro Stato. In questo caso il passaggio era Romania-Italia, 20 lavoratori interessati pagati 50 euro al giorno, senza malattia, non ritribuiti in questo caso, tant'è che molti andavano a lavorare anche malati, non messi in condizione di curarsi il tutto, sotto minaccia di licenziamento, senza ovviamente il pagamento degli straordinari. Un sistema articolato, con reati fiscali all'interno, venivano emesse infatti fatture a saldo per operazioni inesistenti, registrate nella contabilità delle ditte italiane, usate per creare anche fondi neri. I reati sono diversi, il 630 bis per sfruttamento e reclutamento mano d'opera, 416 per associazione a delinquere e, per la prima volta, contestato agli arrestati il reato di autoriciclaggio, recentemente introdotto dalla legge Grasso. Uno degli aggregati coinvolti è in pieno centro storico, hanno detto gli inquirenti, in via Vittorio Veneto, aggregato con un volume d'affari di 15 milioni e mezzo di euro, tanto per capire l'ordine di grandezza degli appalti, un modus operandi che andava avanti dal 2010.